siamo a monta d'alba siamo nell'azienda agricola poderiva yacht azienda familiare condotta da walter mio fratello e io daniele lavoriamo qua nella nostra azienda nelle nostre terre dal 1965 produciamo principalmente roero e roeroneis che sono i vini di punta della nostra azienda roeroneis principalmente in terreni sabbiosi dove abbiamo molta mineralità nel vino il roero in terreni sabbiosi misti a terra rossa dove abbiamo più struttura nel vino il nostro roeroneis e si chiama franco dedicato al nome di nostro padre fondatore dell'azienda il roero è dedicato a pierin nostro collaboratore dell'azienda da moltissimi anni ed è un membro della nostra famiglia con questo vi invito tutti a venirmi a trovare in azienda e comunque saluta tutti